Pa Seconda tappa 3, 2, 1 Terza tappa Quarta tappa Quinta tappa Sesta tappa Sesta tappa Settima tappa Ottava tappa Nonna tappa Uno, due, tre Siamo un tempo Decima tappa Degima tappa Sesta tappa Sesta tappa Tredicesima tappa Quattordicesima tappa Quindicesima tappa Per diventare realtà perché noi seguiamo te Per cercare la verità Metto con impegno ogni mia capacità Tutti insieme diciamo la paura Ogni pagina un'avventura Seguo la notizia perché fosse importante Per questo giornale ma nessuno è distante Tu sei con noi Gesù Un servizio per scoprire la verità Che con la vita faccio diventare realtà Perché noi seguiamo te Noi seguiamo te Ciao ragazzi, come state? Sabato 22, questo sabato qui, c'è la nostra super festa conclusiva della CR Esatto, ci troviamo ognuno nella propria parrocchia Perché è lì che la CR Scende in campo Ciao ragazzi Ciao Ciao Ciao